Altan, Staino, disegni, Lunari, LK e tanti tanti altri ancora sono i grandi disegnatori che per 29 anni hanno collaborato con la Smemoranda con le loro bellissime tavole in un continuo gioco fra segno e parola che ha contraddistinto la storia di questi ultimi 30 anni d'Italia assieme al vostro contributo sui vostri diari dove avete parlato d'amore, lavoro e studio. Oggi tutti questi grandissimi artisti, non tutte le tavole perché sono tantissime, stanno per esporre in una mostra fantastica che si terrà al Guggenheim Museum di New York, in una mostra straordinaria che sta per essere allestita all'Ermitage di San Pietro, in una mostra molto bella che si terrà alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte a partire dal 3 ottobre, una mostra che poi sarà itinerante in altre città come Roma, Genova, Livorno, Torino, ma non posso dirvele tutte io adesso, primo perché non me ne ricordo, secondo perché mi è venuta una fame assurda, mi mangerei un tre quarti di bue con un po' di pattefro a gras. Adesso vi lascio, vi ringrazio, vi aspetto alla mostra, il vostro Philippe Saverio, grazie, arrivederci.